Compie cent'anni il Lerici Sport e infatti sabato prossimo 10 giugno con avvio alle ore 18 presso le piscine della struttura Lericina Ciccirolla sono previsti fior di festeggiamenti in tale occasione. Nel contesto sarà peraltro presentato il libro La pallanuoto a Lerici dal 1923 curato dall'ex giocatore rosso-blu Alessandro Manfredi e ancora previste nel quadro interviste, un'esibizione di nuoto sincronizzato e ulteriore spettacolo. Nel frattempo per la cronaca tutto ok, alla festa Lericina dello sport che ha tenuto banco in centro domenica scorsa 4. Immancabile Ivi lo stand dei coccodrilli a riguardo, vediamo qualche immagine. Questi cento anni sicuramente sono cento anni di orgoglio da parte mia di fare parte di questa società da 25 anni. È un orgoglio perché comunque questa società ha visto passare tantissimi atleti e tanti di questi atleti saranno presenti proprio sabato 11 presso questa piscina meravigliosa dove viene festeggiato il centenario. Saranno presenti atleti storici che sono saliti in A1 con il Lerici sport nel 1975 e faccio il nome di Gian Porro e soprattutto è stato pubblicato un libro da un altro atleta sempre dell'Erici sport e che faceva parte della squadra del 1975 che è Alessandro Manfredi. Questi festeggiamenti sono stati voluti dal nostro presidente Alessandro Sammartano e per ricordare le figure storiche di questa società, Primo su tutti Cicirolla che è comunque ancora l'anima di questa società e da parte mia, visto che sono solo 25 anni che faccio parte della Lerici sport, sicuramente un ringraziamento particolare. Questa società la deve dare al past president Aldo Sammartano.